La nostra filosofia è sempre legata alla tradizionalità, però puntando anche un po' all'innovazione sulla metodologia della preparazione dei piatti e anche alla stagionalità dei piatti. Piatti sempre freschi con le verdure della stagione. Il menù, essendo stagionale, lo cambiamo almeno quattro volte l'anno, quindi cerchiamo di utilizzare nel momento le verdure del momento e le carni e i pesci del momento. Non usiamo mai troppe creme, troppe preparazioni lunghe. Abbiamo prodotti che vengono preparati al 90% al momento. Usiamo molto gli abbinamenti carne o pesce con le verdure, proprio perché vogliamo cercare di alleggerire quello che la nostra cucina toscana era. Era una cucina molto lavorata, quindi con tante salse, tantissimi tingoli, tante ore di lunga cottura. Abbiamo cercato di alleggerire un po' la cosa. Anche la gente te lo richiede, perché vuole una cucina più leggera. Possiamo parlare di un piatto che è della nostra tradizione, che è la panzanella. È stata rivisitata, nel senso che il pane, che prima era usato raffermo e poi ammollato per qualche ora nell'acqua per farlo rinvernire, noi lo facciamo invece diventare un'insalata croccante di pane e tutte le verdure che ci sono nella stagione. Quindi condito con abbondante olio laudemia, insomma, è una rivisitazione di un piatto che nella sua semplicità esprime anche la ponte di salità del momento, della primavera. Facciamo anche ragù, ma non facciamo il classico ragù. Noi usiamo, tipo in questo momento, il ragù di coniglio, però viene fatto tutto tritato a mano, non viene usato nessun tipo di macchinario. Sia la carota, il sedolo e la cipolla che serve come base per i soffritti, vengono tagliate a coltello e così anche la carne.